Grazie a tutti. 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 Al massimo posso modificare i punti. Eh, magari. Ah, va va va. E' leonora 8, che più 34 fa 42. 42, 0, 0, 0, 8, 8. Io ho 8, che più 35 sta a 43, 43 sono a 15, fino a morciare. Chiara, Stefania? 5. Stefania, 5, questa 26, 26, 0, 0, 5, la marcatura. Chiara? 8. E fa 47, 47, 0, 1, allora, firmatevele, firmate anche il mio, come marcatore te, e controlla anche io. Grazie. Grazie.